Questa è la fava di cacao, è il prodotto che arriva dal paese di produzione, arriva in sacchi di iuta e praticamente è la materia prima da cui nasce il tutto. Dalla fava di cacao al cioccolato, un prodotto in grado di donare allegria e di evocare scenari dalle atmosfere fantastiche che nel corso della storia hanno ispirato numerosi registi e scrittori. Da pochi mesi la storica azienda piacentina Bardini si è trasferita alla Veggioletta dove ha attivato il nuovo laboratorio che consente di ottenere il prodotto finito dalla materia prima. In precedenza l'azienda piacentina si occupava di trasformare il prodotto semilavorato in cioccolato. Graziano Balduzzi, titolare dell'azienda, ha illustrato alla stampa il processo di lavorazione del cioccolato.